buongiorno a you eccoci qua dal vostro anno della rete in una nuova deck profile siamo appena entrati con teros in standard quindi vi porto un deck aggiornato a teros con teros ci sono state tante tante novità e tanti mutamenti nel meta e rafforzamenti per alcune carte molto particolari vabbè giorno dopo giorno vi porterò come sempre qualche deck profile simpatica tipo questa se volete che vi aggiornano qualche vostro deck o avete qualche richiesta in particolare scrivete tutto nei commenti vi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale e supportatemi che faremo uscire un sacco di roba bella allora una di quelle carte che volevo sempre giocare che ci ho provato pure eccolo qui è jace manipolatore di misteri jace uno dei place worker più fighe e forti che ci sono questo diciamo è quasi il più scarso però non è detto che cosa fa a quattro mana con tre blu se sei per pescare una carta mentre il tuo grimorio è vuoto vinci la partita un giocatore bersaglio mette nel suo cimitero le prime due carte e pesca uno con meno otto peschiamo sette carte se il nostro grimorio è vuoto vinciamo la partita lo ripete lo ripete questa circostanza perché il caso mai risposto ci spaccherebbe gesso potremmo perdere invece grazie al fatto che ci fa vincere la partita anche l'abilità attivata e non solo la passiva vinciamo la partita in compagnia di jace eccolo eccolo qua l'oracolo ti tassa 2 mana blu 1 3 entra nei campi battaglia guardiamo le prime x carte dove x è pari alla nostra devozione con il blu solo con queste due carte già guardiamo guarderemo cinque carte poi che fa mettine fino a una in cima al deck e metti le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale però se x è pari o superiore al numero di carte del tuo grimorio vinci la partita oltre a questo deck che vi farò vedere con questa carta molto figa ne uscirà subito dopo un altro perché questo è montato su jace poi ho già creato un deck solo sull'oracolo di tassa molto più combo di questo anche se questo come automillo mi piace tanto come versione quindi queste sono le nostre win condition difficilmente vinceremo con i danni perché andremo a vedere anche le creature non ci fanno non fanno molto paura di oracolo di tassa nel monto 4 e di gesso manipolatori di misteri 3 abbiamo sette carte per vincere la partita nelle prime partite avevo provato a fare il mondo blu è un po per sfiga un po per varie cose non riuscivo mai ad avere una delle due carte in mano o raramente o rischiavo quindi io ho scelto di aggiungere un altro colore però prima di vedere l'altro colore vi dico una di quelle carte che servono assai in questi mazzetti combo mono monocolore ed ecco qui il loto di nix il loto a differenza degli altri costa 4 il loto di nix entra nel campo di battaglia tappato poi lo possiamo tappare scegliere un colore e ci aggiunge tanto mana pari al colore della nostra devozione quindi se in questo momento scegliamo blu abbiamo 1 e 2 in gioco tappiamo e ci dà ben 5 mana blu e di questi ne montiamo 4 perciò il mazzetto con il loto diciamo che è prettamente blu però come vi ho detto dato che si può sfigare o altro ho scelto ma non solo per la sfiga anche per velocizzare un po il deco perché l'avversario sicuramente non ci sta non si ferma a guardare a noi e ho scelto di aggiungere un colore il colore scelto è il verde per due motivi uno vorrei giocare una delle mie carte già al terzo turno e secondo caso mai mi auto millo mi auto macino determinate carte vorrei poterle riprendere non voglio giocare istantaneo stregonerie perché non sempre funzionano nel piano visto che devo fare dei motion quindi ho scelto di aggiungere un altro press walker tre copie di tamiglio tamiglio ombre svolger oltre che la passiva può essere molto utile perché non ci fa scartare né sacrificare permanenti il più 1 ci fa ci aiuta ad auto macinare il nostro deck visto che dice scegli il nome di una carta guardiamo le quattro carte se esce la carta col nome scelto la aggiungiamo alla mano le altre nel cimitero e con meno 3 riprendiamo in mano una carta bersaglio perciò qualsiasi anche una terra dal nostro cimitero è il quattro perro dell'unico l'unico istantaneo del deck sì l'unico istantaneo del deck che è spirale di crescita la spirale ci fa pescare una carta perciò ci aiuta diciamo a levarci anche una carta dal deck e in più possiamo mettere una terra dalla nostra mano in gioco è la carta che ci permette di avere quattro mana già al terzo turno per fare o jace o loto o altre carte insieme poi andiamo a vedere tutto il deck e questo diciamo è lo spruzzo di verde questa è la nostra win condition di loto nel monto 4 ovviamente è la carta che voglio vedere che voglio vedere subito insieme alle altre anche se le altre un po con profetizzare un po le possiamo pescare con le varie carte ci possiamo arrivare per il loto se lo vediamo già terzo quarto turno abbiamo più possibilità quindi faccio una cosa ok ok monto 4 tritona guarda segreti un mana 04 avventura possiamo macinare le prime quattro carte di un rimorio bersaglio quindi ci maciniamo il deck e poi abbiamo un 04 che ci difende a noi e ai nostri press worker idem con patate per il muro quattro segreti sommersi che tranne loto di nix ogni volta lanciamo magia maciniamo due dal nostro da un deck 15 continuiamo a macinare per ogni carta magia che lanciamo tanto anche le altre che sono blu e verdi conta come blu tre gadwick che una 33 che ci fa pescare x carte e poi quando lanciamo magia blu stappiamo un permanente non terra bersaglio forte gadwick sia il fatto che ci fa pescare sia il fatto che ha tre di a tre mala blu nei nel suo costo di mano perciò la devozione fumo si alza tanto e infine quattro furfante insidiosi la carta che diciamo che ci alza tanto il valore del deck volevo cercarlo di fare più budget possibile però purtroppo il furfante insidioso e sfrontato è fortissimo perché perché ci fa rimbalzare un qualsiasi permanente dell'avversario perciò facciamo perdere un turno all'avversario è più una creatura che vola con lampo e ci dà anche i due malablu di devozione cioè non ho trovato nessuna carta che può sostituirla per abbassare budget poi ovviamente ci possiamo mettere altre carte tipo lei avevo pensato che fa rimbalzare creatura a noi creatura all'avversario visto che tutte le nostre creature quando entrano in gioco fanno qualcosa però con il verde no perché verde se proprio uno piccolo tocco andremo vede anche le terre non lo so vedete voi questa è la mia lista però potete cercare di sostituire il furfante con qualche carta blu che rallenta l'avversario è l'unica come terra abbiamo 3 scusate aspettate ok 3 6 7 8 isole una foresta queste sono le pozze prolifiche le shock land quattro tempi per profetizzare due castelli per profetizzare quattro passaggi leggendari per cercarci se siamo sfortunati la mono foresta e oltre per smaltire lo stesso il deck comunque abbiamo in teoria 12 carte che danno il verde e il blu è il colore padrone di questo deck 60 carte è figo perché poi l'avversario non capisce cosa stai facendo finché non trova una delle win condition ok però quando arriva soprattutto l'oracolo di tassa ti fa vincere puff all'improvviso deck molto simpatico vi raccomando raga fatemi sapere cosa ne pensate di questo deck richiedete il vostro deck consiglio altro a disposizione con questa con questo simpatico tritone ci diamo appuntamento a domani come sempre alle 14 con altro video che non è per forza una deck profile grazie mille per la visione voglio stato buon buon ciao